Mr. Bolatto, benvenuti a Media Plaza. Delegati del mondo internazionale, B2B, Plenari, B2B. C'è molto importante per chiedere un evento come questo? Potete pensare di più di 1.000 persone che vivono nella città per 3 giorni. 3 giorni, 3 giorni, 3 dinner, 3 lunch. Questo è almeno il minimo permanente delle persone in Torino. Come potete vedere, ci sono grandi numeri. Non vuoi comprare cosa queste persone possono spendere nelle nostre piñe, con i taxis e altre cose. Oggi non mi ricordo che alcuni sono venuti con la famiglia, non solo 3 giorni, ma tutte le settimane. E anche nel settembre, per visitare altre parti di Piemonte. quindi è una buona opportunità per la nostra regione e soprattutto per la nostra città. e spero anche che 1.000 persone diventino ambassadori di Torino, tutto il mondo. e tornano a tornare a Torino con i miei amici, per visitare la nostra città e per spendere l'argento nella nostra città. ma qual'è la tua prima impressione? Molto bene. La prima impressione del plenari questa mattina è molto buona e simpatica, perché hai una reale immagine del mondo, una differenza di colori, anche per il collo, una differenza di face, è stata una impressione completa del mondo. e anche la relazionamento tra le persone sono molto buona, quindi c'è un buon clima, quindi è una molto buona impressione per il momento. Quali sono i principi temi di questi tre giorni? Ovviamente il Congresso è il Congresso della Città del Commercio, quindi c'è un'opportunità per le Città di confrontare loro. Abbiamo una Città di diversa natura, pubblica, privata, mixta, e quindi è importante per noi confrontare come la Città è in diversi paesi, e anche per capire il migliore processo, il migliore progetto, e il migliore modo di servire l'entreprise. Perché in tutto il nostro mondo, la Città exista perché l'entreprise existono. Il nostro obiettivo è servire l'entreprise per avere un modo di crescere, per l'internationalizzazione e così on. e noi utilizziamo questo Congresso per benchmarkare noi, per interagire le pratiche, e anche per interagire le idee sull'economia del mondo, le trend e le informazioni. questo è il secondo importante l'internationalizzazione del Congresso. E anche il pleno di questa mattina è un punto importante di confrontazione, e spero che tutto va bene in questa direzione. Grazie, signor Bollatto, e vediamo presto per cercare questo evento. Grazie, signor Bollatto. Grazie.